350 anni dopo la catastrofica eruzione dell'Etna, una delle più devastanti a memoria d'uomo, il miracolo del velo di Sant'Agata, che da tante disastrose eruzioni salvò la città di Catania e i suoi abitanti, continua ad essere ricordato con immutata commozione nel corso delle celebrazioni di un anniversario che chi vive alle falde del vulcano non può dimenticare. Nel corso dei secoli il velo è stato più volte portato in processione come estremo rimedio per fermare la lava. Una processione che si è rinnovata anche ieri quando la tanto cara reliquia conservata in cattedrale a Catania è stata portata a bel passo in visita alle parrocchie della cittadina etnea. Secondo un'antica leggenda sarebbe il velo utilizzato da una donna per coprire la santa durante il martirio con i carboni ardenti. Secondo altre interpretazioni il velo di colore rosso faceva parte del vestimento con cui Agata si presentò in giudizio. Secondo un'altra versione ancora il velo bianco sarebbe diventato rosso a contatto col fuoco della brace. 350 anni di storia di ricostruzione di fete. Non mi deve mancare anche la presenza della nostra amata patrona della diocesi e della città di Catania, Sant'Agata, che col suo tomaturgo velo tante volte ha fermato e deviato la lava. Questa sera per noi c'è un altro secondo appuntamento. Siamo nel mese di maggio e viene pellegrina la copia della Madonna che fu coperta dalla lava del 1669. La Madonna delle Grazie che abbanda poi la Madonna di Monpileri o Madonna della Sciara. Naturalmente non la statua monumentale del Gaggini che non si è mai toccata, ma la statua che il Papa ha benedetto a motivo del desiderio, parlo di Papa Francesco, di padre Alfio Privitera, azzerante, rettore di quel santuario. La prima domenica del mese di maggio, mese mariano, nella chiesa madre di Belpasso, dedicata alla Vergine Immacolata, due simboli della fede e della devozione delle genti dell'Etna esposti alla venerazione dei fedeli. Il sacro velo della Vergine Martire Agata in mattinata, mentre nel pomeriggio, dal santuario di Monpileri, il simulacro della Madonna della Sciara Pellegrina, già benedetto nel 2013 da Papa Francesco e accompagnato dal rettore del santuario, padre Alfio Privitera, per la celebrazione della Santa Messa Vespertina. Il simulacro della Madonna della Sciara Pellegrina, copia della storica icona della Madonna delle Grazie, sommersa dalla lava nel 1669 e miracolosamente ritrovata ed estratta intatta, è il primo simulacro che arriva nella principale parrocchia di Belpasso, in occasione di Belpasso Mariana, esposizione che permetterà già dalla prossima domenica la venerazione di tutti i simulacri mariani.